Una giornata storica per il campus di Santa Monica che apre le porte agli studenti delle scuole superiori nel primo degli Open Day organizzati dall'Ateneo per la presentazione dei corsi di laurea e dell'offerta accademica di nuovo in presenza dopo lo stop forzato legato alla pandemia. È un Open Day particolare quello che stiamo celebrando oggi a Cremona perché da un lato è il ritorno in presenza. Dopo praticamente due anni i ragazzi finalmente possono non soltanto ascoltare quello che è la proposta dell'offerta formativa del nostro Ateneo ma anche frequentare, vedere gli ambienti, vivere il luogo dell'Università. La seconda cosa è che è il primo Open Day in presenza che viene svolto nella nuova sede di Cremona. Anche questo è un aspetto storico secondo me molto importante perché è una sede bellissima, una sede che offre strutture, servizi e quindi è un ambiente ideale per coloro che sceglieranno di fare i corsi nelle facoltà qui ospitate per poter proseguire la loro formazione. E in più è un'occasione particolarmente importante anche dal punto di vista storico perché esattamente cento anni fa il padre fondatore del nostro Ateneo, Agostino Gemelli, aprì l'Università Cattolica nel dicembre del 1921. Un centinaio questa mattina gli studenti cremonesi che hanno partecipato in presenza alla giornata che prevedeva anche due workshop simulazioni di lezioni accademiche per gli studenti. L'Open Day si è concluso poi con una visita guidata al campus. L'offerta formativa è sempre molto importante, non abbiamo particolari novità quest'anno, abbiamo consolidato negli scorsi anni la struttura dell'offerta proprio perché la qualità che vogliamo dare ai nostri studenti sia adeguata e quindi noi confermiamo sia per la Facoltà di Economia e Giurisprudenza sia per la Facoltà di Scienze Agrarie l'offerta formativa che ci sarà.